Oppa Elue! No, ecco chi vuoi Jonathan No, anche se ti stai smettendo E' un buon amico il biscotto, va là! Ascolta, chi è che accettendo? Non c'è solo! Non c'è solo! Ehi, dove sto bene? Ehi, dove sto bene? Ehi, dove sto bene? Ehi, ma stai facendo, che mi faccio andare a fare? Cosa? Oh no! Oh, no! Eh? Ehi, dove sta bene? Grazie.